Lavori pubblici blitz della procura indagati nell'inchiesta l'attuale sindaco di Vali Sotto Lodovici e l'ex primo cittadino Mario Puglia insieme ad alcuni imprenditori. Tragico scontro, muore trentenne, la vittima è Pierluigi Meniconi che sulla strada per il foro di San Giuliano si è scontrato a bordo della sua moto contro una Fiat Panda, ferita anche la fidanzata adesso ricoverata a Cisanello. Una panchina rossa per Alessandra è stata realizzata all'interno del camelietto di Sant'Andrea di Compito per i 10 anni dal femminicidio di Alessandra Biagi. Suolo pubblico che è a raddoppio via libera del comune di Viareggio all'aumento del 100% del suolo pubblico in concessione a bar e ristoranti per gantire le distanze di sicurezza. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, dunque apertura dedicata a questa inchiesta della procura che ha coinvolto l'amministrazione comunale di Vali di Sotto insieme ad alcuni imprenditori. Sentiamo Egidio Conca. Il blitz è scattato di prima mattina. Guardia di finanza, polizia di stato e carabinieri, anche forestali, hanno raggiunto gli uffici comunali di Vali Sotto e le sedi di varie aziende del settore marmifero, oltre alla sede del Parco delle Apuane. Nel mirino della procura di Lucca ci sono una serie di lavori pubblici che hanno riguardato il territorio comunale di Vali. Le ipotesi di reato sono pesanti. Si va dalla truffa al falso ideologico, dall'abuso di ufficio alla corruzione dalla turbativa d'asta al riciclaggio e in alcuni casi si ipotizza l'associazione a delinquere. Una trentina complessivamente gli indagati, tra cui spiccano l'attuale sindaco Giovanni Lodovici e il suo vice ed ex primo cittadino Mario Puglia. Sarebbero indagati anche altri amministratori e familiari di amministratori. Sotto inchiesta anche diversi imprenditori del settore del marmo. L'indagine sarebbe partita più di un anno fa da una segnalazione arrivata ai carabinieri forestali di Camporgiano. E l'oggetto sono in particolare i lavori di somma urgenza condotti a vagli sotto. Gli inquirenti ipotizzano che siano state provocate situazioni d'allarme e sia stata amplificata la gravità di alcune emergenze naturali per giustificare l'assegnazione dei lavori di ripristino dello Stato dei luoghi, affidati con procedura diretta a imprenditori già individuati. In questo modo, secondo la Procura, sono state eluse le procedure tramite gara di appalto ed è stato inoltre gonfiato il costo dei lavori. In alcune procedure, infine, le concessioni sarebbero state rilasciate in violazione delle procedure di legge. Nei lavori sotto inchiesta rientrerebbe anche quello recente per la realizzazione del bypass dopo la chiusura del ponte della Tambura. Nel corso del blitz, le forze dell'ordine hanno sequestrato documentazione ed anche computer, adesso al vaglio degli inquirenti. Veniamo adesso alla cronaca perché c'è stato un tragico scontro sul brennero, sul lato pisano della strada che porta al foro di San Giuliano a perdere la vita un 31enne di Capannori. Tragico schianto sul versante pisano della via per il foro di San Giuliano. A perdere la vita nello scontro tra la sua moto Ducati ed una Fiat Panda è stato Pierluigi Meniconi, 31enne di Coselli, molto conosciuto anche a San Concordio, in quanto commesso del supermercato Eurospin. A bordo con lui la fidanzata che ha riportato diverse fratture ed è stata trasportata a Cisanello. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via del Brenno e via Niccolini, un luogo tristemente noto per episodi simili e in cui in passata hanno già perso la vita quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, la moto procedeva sul Brenno in direzione Lucca quando l'auto si è messa in carreggiata proprio da via Niccolini. Il Meniconi non sarebbe riuscito a frenare andandosi a schiantare contro il lato sinistro della vettura. Lui e la fidanzata sono stati sbalzati dal mezzo e sono finiti sulla carreggiata. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento immediato di un ex volontario del 118 e dell'ambulanza inviata dalla centrale unica Pisa Livorno e l'allerta dell'elisoccorso per un eventuale trasporto d'urgenza all'ospedale Pisano. Veniamo adesso al consueto bollettino diramato dalla regione toscana con una buona notizia per la nostra provincia che per un'altra giornata registra un doppio zero, nessun nuovo contagiato e nessun nuovo decesso. In Toscana complessivamente sono cinque i casi positivi in più rispetto alle 24 ore precedenti. In aumento, un leggero aumento invece i ricoverati che oggi sono complessivamente 189, tre in più rispetto a ieri, di cui 37 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. Ci spostiamo adesso a Capannori, a Sant'Andrea di Compito, in inaugurazione della panchina rossa per i dieci anni del femminicidio di Alessandra Biagi. La notte del 26 maggio di dieci anni fa venne trucidata nella sua abitazione di via di Vergalloro Alessandra Biagi, 26enne di Verciano, uccisa dall'ex compagno il 29enne bosniaco Dejan Ilic. Per ricordare quel tragico episodio e per porre sempre di più l'accento sulla grave problematica della violenza di genere, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori, in collaborazione con il Comune e con il Centro Culturale del Compitese, ha inaugurato una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, all'interno del camelieto di Sant'Andrea di Compito, proprio di fronte alla pianta di camelie che venne intitolata ad Alessandra all'indomani della sua uccisione. Una celebrazione sobria, anche a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus, in cui, dopo i saluti istituzionali, si sono alternate testimonianze di amiche di Alessandra e dei suoi familiari, e al termine della quale è stata intonata l'avemaria eseguita da Marinella Berardinelli. Poi, l'inaugurazione vera e propria della panchina, con la consigliera Silvia Madei, cugina della vittima, e il sindaco Luca Menesini, che hanno terminato di stendere la vernice rossa. La Commissione Pari Opportunità sta facendo un grande lavoro di segni in alcuni luoghi, ma soprattutto un lavoro culturale, un lavoro di prevenzione e un lavoro anche di messa a disposizione di servizi per accompagnare donne che si sentono appunto minacciate e allo stesso tempo fare in modo appunto che questo evento orrendo, la morte di Alessandra, la morte di tantissime donne, non abbia a ripetersi per altre. Quindi il mio ringraziamento alla Commissione, un ringraziamento anche a tutti quei servizi, a partire dal Codice Rosa, che aiutano in questo percorso. Quella appena trascorsa è stata la prima domenica con la presenza del popolo durante le celebrazioni della messa. Andiamo a vedere in Garfagnana come si sono svolte, tra cui anche una bella celebrazione a Capraia all'aperto. Con la possibilità di celebrare le messe con i fedeli, sono state quasi 300 le cerimonie religiose celebrate all'interno della diocesi di Lucca, per la precisione 299. La maggioranza sono state celebrate nelle chiese ed in alcuni casi sul sagrato davanti alle stesse. Per rendere possibile tutto questo è stato determinante il ruolo dei volontari. Così ad esempio nel Duomo di Castelnuovo. Tra sabato e domenica sono state celebrate sei messe grazie ai tre paroci presenti, ma soprattutto grazie alla collaborazione di circa 40 volontari che hanno accolto i fedeli accompagnandoli nei posti disponibili. Al termine di ogni liturgia hanno poi provveduto a sanificare gli ambienti per renderli fruibili per la successiva celebrazione. Per quanto riguarda la presenza dei fedeli è stata notevole in tutta la diocesi. Sono circa 20 le chiese che hanno registrato il tutto esaurito secondo i posti disponibili con le misure di distanziamento previste. Anche in tutte le altre chiese comunque la partecipazione è stata buona. Noi TV, per raccontare della nuova partecipazione al culto dei fedeli, è salita a Capraia, un piccolo borgo montano dell'Appennino tosco emiliano nel comune di Pieve Fosciana. In questo paese è presente un eremo con il suo sacerdote che svolge anche il ruolo di paroco in alcune comunità della zona. All'interno dell'eremo, peraltro, completamente restaurato, si può apprezzare una pala di Madonna con bambino di Pietro da Talada. Per il ritorno delle funzioni aperte ai fedeli, poco sotto l'edificio sacro, la comunità di Capraia ha ripulito e allestito un'area per la celebrazione della Santa Messa. Domenica 25 maggio sono stati circa una cinquantina i fedeli che hanno assistito alla celebrazione all'ombra dei castagni, tutti con mascherine a distanza di sicurezza l'uno dall'altro, ad eccezione ovviamente dei componenti dello stesso nucleo familiare che hanno potuto farlo senza preoccuparsi delle distanze minime tra di loro. A celebrare la Santa Messa in questo luogo davvero speciale è stato Don Fulvio Calloni. Uno dei posti più adatti per ricominciare. Certo, la chiesa è molto bella, è molto significativa, però come mi sembra di essermi espresso, questa cattedrale dove le colonne sono i castagni e dove la volta dell'apsi del cielo è veramente una delle cattedrali più belli del mondo e forse qualche vescovo me la invidia. E in merito alle prenotazioni per presenziare alle messe, la diocese ha precisato che sì, la prenotazione è fortemente consigliata, ma che in ogni caso verrà messo in chiesa anche chi non è, non si è prenotato. Ovviamente la precedenza verrà data a chi ha riservato il posto e l'ingresso in chiesa sarà consentito fino all'esaurimento dei posti disponibili. È dunque da preferire il segnalarsi con anticipo online o per telefono per evitare di arrivare inconsapevole ad una chiesa che ha raggiunto già il limite della capienza massima. Spostiamoci adesso a San Michele Nescheto perché è stata inaugurata la nuova sede dell'Aci di Guamo. Aci Lucca non si ferma, anzi raddoppia e inaugura una nuova delegazione a cavallo tra i comuni di Lucca e Capannori. È già entrata in attività San Michele Nescheto in via Martiri di Ligeri sulla via Perpisa la nuova sede Aci Guamo che arricchisce la presenza dell'Automobile Club sul territorio della provincia di Lucca. La nuova delegazione sarà guidata da Simone Aquilini, già titolare dell'ufficio di Castelnuovo Garfagnana e offre un ulteriore supporto agli automobilisti rucchesi. Nella sede di Guamo sarà possibile sbrigare tutte le pratiche auto come collaudi, visure, revoche di fermi amministrativi e passaggi di proprietà, le pratiche per la patente di guida e i servizi dell'Automobile Club, assistenza soci, attività dell'Aci storico e sottoscrizione delle tesse. Questo qui è un ulteriore servizio della zona che risultava parzialmente scoperta dai nostri uffici. Quindi siamo molto contenti, tra l'altro anche da un punto di vista architettonico è venuta sicuramente molto accogliente e ovviamente in questo momento qui si scontano tutti gli apprestamenti che abbiamo dovuto preparare per i problemi sanitari che ben conosciamo e quindi è solo destinato a migliorare. Per l'Aci Lucchese è la seconda buona notizia nel giro di pochi giorni. Oltre all'apertura della nuova sede c'è infatti la nomina del presidente Luca Gelli alla guida di Aci Progei, l'azienda che gestisce e si occupa del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Automobile Club d'Italia. Il presidente nazionale Sticchi Damiani ha voluto, spero e credo, riconoscere all'Automobile Club di Lucca un'attività piuttosto importante in questi ultimi anni. Siamo cresciuti tantissimo, in quattro anni siamo aumentati di 5.000 soci, collocandoci al nonno posto a livello nazionale davanti a tantissime metropoli. Il presidente nazionale ha voluto gratificare questo sforzo attraverso un incarico importante. Infila in modo ordinato per ritirare le mascherine della Lucchese. Si tratta di presidi certificati in vendita da oggi a Lucchese del point dello stadio Porta Elisa, dove i tifosi hanno già iniziato ad andare per nienza. La società ne ha fatte confezionare di quattro tipi, due sono nere e due sono bianche, con diversi loghi per gli abbonati. La mascherina è in omaggio. Si chiude qua la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie di Viareggio e della Versilia.